Nel maggio del 1960 si era diffusa la notizia che era stato consentito di tenere a Genova il Congresso Nazionale del Movimento Sociale Italiano, che era un partito dichiaratamente neofascista, i cui voti erano serviti a formare un governo democristiano presieduto da Ferdinando Tambroni. Inoltre era stato invitato a presiedere il Congresso del Movimento Sociale Carlo Emanuele Basile, che era stato prefetto di Genova nel 1944 e si era distinto per azioni particolarmente ferate nei confronti della popolazione. Si trattava quindi di un oltraggio deliberato alla città, che era medaglia d'oro della Resistenza, e che quindi suscitò un'ondata di sdegno civico culminata con la manifestazione del 30 giugno del 1960. Nei giorni precedenti al 30 giugno si erano svolte molte altre azioni di protesta. Una di queste fu organizzata dall'Università con il pieno sostegno del rettore di allora, che era Carlo Ceretti, un giurista il quale già durante la Repubblica Sociale aveva manifestato la sua opposizione al fascismo, rifiutandosi di prestare giuramento di fedeltà. Così il 25 giugno un gruppo di circa 100 docenti, assieme ai loro studenti e a molti cittadini comuni, chiamiamoli così, organizzò un corteo che partiva dalla sede di via Balbi 5 per dirigersi alla casa dello studente. La meta era scelta perché era lì che durante l'occupazione nazista le SS torturavano i partigiani e i prigionieri politici. Oggi i locali in cui si svolgevano le torture sono un museo aperto al pubblico. Lo stesso giorno della manifestazione venne inviata al Presidente del Consiglio Tambroni una lettera che fu anche ripresa dalla stampa in cui i professori spiegavano le motivazioni ideali della loro protesta. Diceva così, anche per gli uomini di studio è il momento di agire, di lasciare le nostre ricerche per rivolgerci a un impegno educativo continuo, impegnato sugli ideali di libertà e giustizia che animarono la lotta della resistenza, affinché si renda impossibile qualsiasi tentativo di riaffermazione del fascismo. La lettera era stata inoltrata al rigoverno da Erico Beltrametti, fisico che poi sarà dalla metà degli anni Ottanta rettore dell'Ateneo. Era firmata da altri 93 docenti, principalmente delle facoltà medico-scientifiche, ma non mancavano quelli delle facoltà umanistiche. Ricordo solo pochi nomi in ordine alfabetico e mi scuso con tutti gli altri. Cornelio Fazio, neurologo antifascista che durante l'occupazione nazista della Repubblica Sociale era dovuto entrare in clandestinità. Aldone Pimodona, un archeologo e docente di antichità classiche che nel 1938, a causa delle leggi razziali, aveva dovuto lasciare la docenza e la ricerca. Ettore Pancini, docente di fisica, che era stato un partigiano delle formazioni combattenti. Carmine Alfredo Romanzi, microbiologo, che era il partigiano Stefano, che aveva avuto un ruolo importante nella liberazione di Genova, che poi sarà rettore dal 1969. Altro firmatario era Eugenio Togliatti, matematico, che a differenza del fratello Palmiro, che era segretario del Partito Comunista, si era sempre mantenuto lontano dalla militanza attiva. In questa occasione fece un'eccezione e firmò e partecipò attivamente alla manifestazione. Sandro Pertini, in un intervento alla Camera, svolto il 2 luglio successivo, fece espresso riferimento alla manifestazione degli universitari genovesi, proprio per dimostrare il carattere interclassista, intergenerazionale, l'ampiezza, la coralità dell'insubordinazione di Genova e dei genovesi di fronte alla protervia dei neofascisti. Quindi, il 25 giugno del 1960, gli universitari facevano la lezione in piazza, possiamo dire così, per difendere la libertà della cultura, dell'insegnamento e della ricerca, che sono liberi soltanto se gli individui e la società sono liberi. Oggi, a 60 anni di distanza, lo ricordiamo e continuiamo ad essere orgogliosi.